Prima di tutto volevo ringraziare gli amici e i colleghi di Mercer per l'invito all'osservatorio, è un piacere partecipare, devo dire che le prime risultanze condivise stasera sono molto interessanti e in parte indubbiamente matchano anche con quelli che poi sono i risultati che a breve vi mostrerò. Noi diciamo come Giorgison chiaramente ci focalizzeremo sulle raccomandazioni dei proxy e sul voto degli investitori istituzionali e inizio dicendo che quello che diciamo a ogni evento Giorgison è l'assemblea successiva inizia quando termina quella precedente. Questo perché fondamentalmente partendo da quelli che sono i risultati evidenziati da Sara e che vi mostrerò anch'io quando rimetto al voto degli investitori e raccomandazioni dei proxy iniziano poi i spunti e le riflessioni che poi porteranno nel periodo autunnale e invernale a definire i step da parte dei comitati e poi magari effettuare l'engagement con il mercato nel periodo tra diciamo tra gennaio e febbraio per poi concludersi con l'attività più strettamente connessa ai tecnicismi assembleari a ridosso del mese di marzo e di aprile. L'intervento si baserà su quattro fondamentalmente aree, i quorum assembleari, le raccomandazioni dei proxy advisor, i risultati di voto e le criticità rilevate dal principale proxy advisor ISS. Ora con riferimento ai quorum assembleari noi registriamo quest'anno un leggero aumento della partecipazione al voto rispetto all'anno precedente, trend che riscontriamo appunto a due anni consecutivi quindi una partecipazione che aumenta di circa 1,3 punti percentuali. Mentre resta in linea con l'anno precedente quella che è la partecipazione alle cosiddette minoranze azionarie lo scorso anno 2022 era 35,26 e quest'anno 35,22. Quindi diciamo che se in termini di assetti diciamo proprietari lo scorso anno avevamo rilevato per la prima volta un superamento da parte delle minoranze azionarie sullo strategico, quest'anno in considerazione della diversa composizione dell'istino quindi per nuovi ingressi e per una società che ha raggiunto la maggiorazione del voto questo trend dello scorso anno è parzialmente superato, vedremo cosa accadrà in futuro anche perché diciamo ci aspettiamo una maggiore sempre partecipazione agli investitori anche per gli obblighi che poi derivano dalla direttiva azionisti. Per riferimento ai main findings della stagione assembleare inizio mostrandovi questa slide sulla politica di remunerazione. Dopo tre anni quest'anno si interrompe per la prima volta il trend di crescita dei livelli di approvazione della politica di remunerazione sia sui risultati complessivi che sui risultati delle minoranze azionali quindi si passa a un meno 4% sul complessivo e a un meno 2 punti percentuali su quelle che sono le minoranze azionarie quindi si arresta questo trend di crescita dovuto a un significativo aumento delle raccomandazioni contrarie da parte del proxy advisor maggiormente utilizzato in realtà dagli investitori istituzionali SS con un numero di raccomandazioni contrarie che passa dal 14 al 23%. Faccio una prima riflessione sul rapporto tra raccomandazioni dei proxy e voto gli investitori. Noi nel mese di gennaio, poi chi è interessato metterò anche a disposizione per i colleghi di Mercer lo studio lo possiamo appunto condividere, abbiamo pubblicato un'analisi sul livello di dipendenza tra 30 investitori istituzionali e le raccomandazioni di proxy advisor. L'analisi copriva i principali investitori istituzionali BlackRock, State Street, Vanguard, UBS, Norges quindi quelli che sono tra i più grandi investitori istituzionali e le raccomandazioni emesse da ISS e Glass-Lewis e nel complesso mettendo a sistema il voto effettivamente espresso e le raccomandazioni dei proxy notavamo un allineamento complessivo quindi su tutte le delibere assembleari del 91,3% con ISS e dell'87,9% con Glass-Lewis dato che tuttavia scendeva con riferimento alla delibere di remunerazione scendeva col riferimento alla delibere di remunerazione in quanto in tal caso i team di analisti hanno in qualche misura delle metriche che non necessariamente conciliano con quelle del proxy advisor di riferimento. Ora diciamo che poi entrerò anche nel dettaglio del tema del remuneration report quello che poi emergeva da questa analisi è che vi è una differenza nel livello di allineamento tra politica di remunerazione e remuneration report quindi un allineamento pari all'84% sulla politica intorno all'84% sul remuneration report quindi in un certo senso si può dire che le raccomandazioni proxy impattano più sulla seconda sezione quindi sul remuneration report rispetto alla politica perché questo in primo luogo è la natura della delibera che impone le diverse riflessioni quindi la politica di remunerazione è un documento binding e votare contro, come raccomandare anche contro da parte di un proxy advisor alla politica può creare un problema gestionale delle società specie quello all'elevato flottante o prive di azionista strategico discorso diverso sul remuneration report in quanto il documento ha natura consultiva e quindi permette una tipologia di analisi e una maggiore libertà del voto chiaramente rispetto alla politica di remunerazione ed è un tema questo fondamentalmente che ce lo confermano i nostri dati su tutta Europa a eccezione del mercato francese dove il voto è binding sia ex ante che ex post inoltre volevo appunto evidenziare come ad esempio prendendo il dato tra le raccomandazioni di SS nel 2021 e quello del 2023 vediamo che pur a fronte di un decremento di 4 punti percentuali di raccomandazioni contrari il dato sul supporto delle minoranze è pressoché identico questo perché il voto sulla politica di remunerazione oltre alla natura binding e consultiva si basa su una serie di metriche diverse che possono utilizzare al voto gli investitori quindi ci sono alcuni investitori come cade poi consignazione che ha un tetto massimo cappato a 5 milioni di euro sulla politica altri investitori come legal general o dvs che richiedono che le società adottino alcuni aspetti particolari quale ad esempio le linee guida sul poste stazionario tuttavia mi preme evidenziare che una raccomandazione contraria di un proxy non è un automatismo di rigetto della politica o di senso necessariamente del senso prevalente delle minoranze azionarie noi abbiamo casi di clienti con raccomandazioni contrari di SS sia sulla politica, sia su un manager report che pur avendo un azionista tra il 20 e il 30% uno strategico tra il 20 e il 30% sono riusciti ad ottenere un consenso assembleare tra l'80 e l'85% chiaro che una raccomandazione di un proxy non condurrà mai a un risultato del 95% in quanto specie le posizioni piccole tendenzialmente replicano le indicazioni di voto del proxy advisor tuttavia se si fanno i compiti a casa per tempo è possibile ottenere un discreto risultato assembleare come fare i compiti a casa per tempo? per il suggerimento, specie per i componenti del comitato per le strutture è di lavorare e calendarizzare un engagement con il mercato sin dall'autunno per poi porlo in essere nel periodo che va tra dicembre e le prime due settimane di marzo quindi specialmente se si ipotizza una nuova politica di remunerazione con elevati incrementi salariali un nuovo piano di incentivazione con effetto dilutivo importante o aspetti che non necessariamente ci allineano con le best practice è fondamentale che si vada a parlare con il mercato quindi che si identificano i corretti interlocutori quindi che sono normalmente team di stewardship e che si identificano anche ondevitare anche per ragioni di economicità di tempo è inutile parlare con 50 investitori andremo e sarà opportuno identificare quegli investitori che hanno la cosiddetta capacità di override quindi voi per posizione di capitale tenuto o per autonomia del team di stewardship hanno la capacità sostanzialmente di derogare quindi fare override rispetto alle raccomandazioni del proxy advisor di riferimento e tuttavia mi prevene di evidenziare che molto spesso se questo dialogo non viene effettuato nel corretto lasso temporale la capacità di override si riduce in modo sensibile specie se fatto durante il periodo della proxy dove poi si concentrano una quantità di voti che gli investitori devono esprimere che è particolarmente elevato l'altro strumento che è leggermente inferiore come impatto anche perché appunto si va a inserire nel discorso, nelle tematiche prettamente assembleari che è la cosiddetta rebatta a lettere quindi un documento che viene inviato agli investitori nei quali si spiega il perché dovrebbero derogare rispetto alla raccomandazione del proxy advisor di riferimento a questo punto sulla seconda sezione sul remuneration report per mettere in evidenza come anche in questo caso si interrompe il trend di crescita che abbiamo registrato nel corso degli ultimi appunto tre anni quindi scende di quattro punti percentuali il livello di approvazione sulla seconda sezione nel risultato complessivo e di ben otto punti percentuali sulle minoranze azionarie in questo senso qui ancora di più l'aumento delle raccomandazioni contrarie di ISS registriamo un più 15% fa da traino e in questo caso oserei dire che sulla seconda sezione l'impatto è ancora maggiore rispetto alla politica per la natura appunto consultiva della delibera di cui parlavo che consente di votare con maggiore libertà agli investitori istituzionali anche in senso contrario chiudo con la parte con le analisi delle criticità rilevate da ISS nel corso della stagione assembleare 2023 ora sulla prima sezione continuo a farla da padrone la criticità evidenziata sul severance devo dire che 48% non vuol dire che nel 48% di società come d'altro anno avete visto in precedenza sia raccomandato in senso contrario per il severance vuol dire che il tema è stato evidenziato come alert in circa una società su due poi in alcuni casi questo ha condotto una raccomandazione contraria nella gran parte dei casi ovviamente no tuttavia il tema più interessante sulla politica di remunerazione dell'anno riguarda le clausole di deroga alla politica di remunerazione questa è una tecnica altis che nelle voti in policy degli investitori dei proxy advisor era già stata inserita nel corso della precedente stagione assembleare nella quale tuttavia era stato una sorta di anno di grazia su questo aspetto e a partire da quest'anno invece è stato molto più circoscritto quello che viene richiesto agli emittenti quindi a partire dal 2023 sostanzialmente è stato richiesto che quando le società inseriscono la possibilità di derogare la policy all'interno della politica stessa debbano precisare il processo di governance che può portare all'esercizio e la deroga quindi l'attività appunto del comitato e inoltre venga definito il massimo il massimo della deroga utilizzabile e le componenti remunerative alla qualità della deroga stessa si può applicare tendenzialmente il suggerimento che abbiamo ricevuto nel corso delle call di engagement è evitare che la deroga si possa applicare alle componenti fisse della remunerazione o ai severance termination payment in quanto se da un lato è comprensibile che si possa far ricorso a questa leva con riferimento alle componenti variabili lo è meno con rispetto alla remunerazione fissa o ai severance payment con riferimento invece alla seconda sezione la criticità principale noi abbiamo inserito qui il 31% di mancata insufficienza di disclosure di performance minime target della griglia di vesting e il 13% di senza insufficienza di informazioni obiettivi queste realtà potrebbero essere cumulati questo è un 44% di vulnus di disclosure sulla consultivazione quindi o non vengono consultivati l'obiettivo o viene consultivato in modo non ritenuto adeguato da parte del mercato tra gli ulteriori temi chiaramente questo è poi un trend di allineamento del mercato sulla seconda sezione quindi tra voti tra raccomandazioni proxy advisor e voti degli investitori continuano a esservi il payout che viene ritenuto eccessivo in questo senso ISS ad esempio si tratta di un sistema pay for performance e in qualche misura nel caso in cui le società non sono in regola con questo pay for performance viene indicata una raccomandazione di voto contrario il pagamento di compensi discrezionali intendendo per questo non la discrezionalità del comitato quindi per esempio intervenire in modo negativo o positivo rispetto ad operazioni che non sono a budget ma proprio le derogo al pay for performance quindi bonus una tantum entry bonus transactional bonus o similari e volevo sottolineare un aspetto che è curioso che noi abbiamo evidenziato abbiamo già evidenziato in precedenti eventi ma che riguardano soltanto questa stagione ma anche gli anni precedenti la cosiddetta severance eccessiva come ricordate nel 44% dei casi viene segnalato il tema severance all'interno delle criticità diciamo della politica di demograzione come dicevo non in tutti questi casi poi la criticità sollevata corrisponde a una raccomandazione contraria invece il discorso è diverso con riferimento alla seconda sezione in quanto c'è capitato di riscontrare società nelle quali la politica pur essendo stata segnalata la criticità sul severance riceveva una raccomandazione favorevole per poi divenire una raccomandazione contraria l'anno successivo quando usciva il CEO perché era stato superato il cap delle 24 mensilità e media MBO quindi sul tema severance c'è una maggiore magari flessibilità sul tema politica mentre si è molto più rigidi in temi di di consultivazione e un altro aspetto che abbiamo iniziato a riscontrare quest'anno è il cosiddetto wonderful gains per quelle che sono appunto i piani che erano partiti nel 2020 con diciamo con azioni che erano state appunto assegnate in epoca covid e quindi un prezzo più basso rispetto a quello in cui sono in cui si trovano oggi in questo caso è stato riscontrato questo elemento in alcune società ed è stato segnalato da parte dei proxy advisor ed investitori io ho concluso poi restato a disposizione per eventuali domande o curiosità che erano Grazie a tutti.